Ciao, benvenuti nel video della pazzia. In questo video lancerò una sfida. Se sei uno youtuber che nel suo canale tratta di Linux, beh, fai un video di risposta e accetta il guanto di sfida. Se invece sei un semplice spettatore, chiedi al tuo youtuber preferito o ai tuoi youtubers preferiti di accettare questa mia sfida. Di cosa si tratta? Le regole del gioco sono molto semplici. Bisogna effettuare il maggior numero possibile di operazioni nel più breve tempo possibile. Però il tutto deve essere effettuato senza alcun ausilio di interfaccia grafica. È vietato anche usare un emulatore di terminale. Bisogna proprio utilizzare la console TTY e nient'altro. A breve vedrete tutto quello che ho fatto io e qual è stato il mio record. Il record è di 5 minuti e 29 secondi. È chiaro che i tempi richiesti dipendono fortemente da ciò che si fa. Adesso voi non dovete seguire passo per passo, non dovete copiare esattamente tutto quello che ho fatto io. Siete liberi di fare quello che volete voi. E niente, buona visione e speriamo che accettiate la mia sfida. A dopo! Come vedete mi trovo su console TTY. La distribuzione in questione è Arch Linux senza alcuna interfaccia grafica installata. Sono abbastanza emozionato ma pronto per questo nuovo record. Quindi cominciamo. Meno 3 2 1 Via! Allora, come prima cosa un messaggio di benvenuto. Ciao Luigi! Poi la data e l'orario attuale. Messaggi di informazione tramite NeoFetch e il monitor di sistema. Vediamo di effettuare gli aggiornamenti di sistema. Dai veloci, veloci! Veloce Pacman, veloce! Fatto! Installiamo poi un semplice software. Fatto! Rimuoviamo lo stesso software. Fatto! Dopodiché andiamo a vedere le informazioni meteo attuali per la mia città. Eccoli qua. Dopodiché andiamo a leggere le notizie sul sito dell'ANSA. Le news. Abbiamo diverse notizie. Scegliamo la prima. Dal primo novembre il click day per il bonus trasporti. Calderone. Aiuto concreto a lavoratori e studenti. Potrei anche andare sul sito dell'ANSA. Ma mi sbrigo. Faccio altro. Andiamo sull'email. Sulla casella email. Controlliamo i messaggi. Ecco qua un messaggio. Ecco qua un altro messaggio. Ok. Scriviamo un'email a Clarintux. Ciao Clarintux. Ok. Ciao. Siamo pronti per inviare l'email. Adesso mi chiede la password. Ed è una password lunga. Ok. Autenticazione in corso. Dai. Messaggio spedito. Perfetto. Dopodiché. Facciamo una ricerca. Su un motore di ricerca. Ad esempio. Ad esempio. Scrivo Arch Linux. Ok. Si è aperto il browser. Andiamo sul sito di Arch Linux. Oppure andiamo sulla guida dell'installazione. Sempre sul sito di Arch Linux. Arch Linux. Ok. Andiamo in basso. Stiamo navigando su internet. Ed ecco qua le istruzioni per installare Arch Linux. Va bene. Direi di uscire. A questo punto. Facciamo partire la collezione musicale. Ecco la prima traccia. Ecco la seconda traccia. Adesso ascoltiamo un po' di radio. Una radio italiana. Anche se rimane un po' di rammare con un po' di ciò. Va bene. Stoppiamo il tutto. Poi. Vediamo di. Effettuare delle semplici operazioni sul file manager. Ad esempio. Spostiamo questa traccia musicale. Sulla cartella musica. Spostiamo questo video. Sulla cartella video. Spostiamo questo pdf. Sulla cartella documenti. Spostiamo questo video. Sulla cartella video. Spostiamo questa foto. Sulla cartella immagini. Poi ci spostiamo sulla cartella immagini. Visualizziamo questa immagine. Ebbene sì. Sto vedendo una foto senza interfaccia grafica. Va bene. Poi. Andiamo su musica. E ascoltiamo ad esempio questa. Ok. Benissimo. Fatto. Andiamo su video. E vediamo un video. Ebbene sì. Sto vedendo. Sto utilizzando un video senza interfaccia grafica. Questo sono io che suono. Ok. Cos'altro possiamo fare? Possiamo creare un nuovo file con. Con BIM. Ok. Scriviamo qualche riga. Così. Fatto. Salviamo. Chiudiamo. E come vedete abbiamo il file. Perfetto. Poi possiamo andare su documenti. E aprire un foglio di calcolo. Adesso completo la tabella del 4. Come si fa? Non mi ricordo più. Va bene. Non fa nulla. Scrivo semplicemente qua. Così. Salviamo. Chiudiamo. Ok. Fatto. Dopodiché. Apriamo un file PDF. Beh. Si fa per dire. Ovviamente. Ce l'abbiamo un po'. In formato scarno. Va bene lo stesso. Poi apriamo un documento Word. Come vedete. È possibile utilizzare un processore Word anche da terminale. Andiamo sul file. E creiamo un nuovo documento. Scrivo ciao. Salvo il documento. Ok. Lo. Possiamo anche. Sovrascrivere questo file. Non fa nulla. Ok. Fatto anche questo. Cos'altro possiamo fare? Possiamo creare una nuova. Cartella. Cartella. Cancelliamo la cartella. Cancelliamo anche questo file che avevo creato. Benissimo. Cos'altro possiamo fare? Possiamo andare a vedere un video YouTube. Ad esempio un video su Linux. Ok. Scegliamo questo qua. Ed è partito il video. Va bene così. Va bene Linux. Fammi un caffè. Ok. Abbiamo finito. Rieccoci qua. Spero che la mia performance vi sia piaciuta. Che altro dire. Quasi quasi rinuncio del tutto all'interfaccia grafica. Ed utilizzo esclusivamente la console. No sto scherzando. No sto scherzando. Però bisogna dire che la console offre tante possibilità come avete visto. E si può essere anche molto veloci utilizzando la console e non l'interfaccia grafica. Quindi volendo si potrebbe anche allargare la sfida permettendo l'uso di un'interfaccia grafica e quindi semplicemente effettuare tutte le operazioni che ho effettuato io. Ho un grande numero di operazioni nel più breve tempo possibile. Magari chi usa la console risulta più veloce di chi usa un'interfaccia grafica. E niente. Questo è tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. E ripeto. Accettate questo guanto di sfida. Dai che ci divertiamo. Ciao. Ciao da Clarintux.